Sono Nicoletta Mantovani, ho la sclerosi multipla e anch'io, come molti malati a sclerosi multipla, ho le vene del collo chiuse a causa di una malattia che si chiama CCSV. Un semplice intervento per sbloccarli può fermare la sclerosi multipla e attenuarne i sintomi. L'associazione CCSV nella sclerosi multipla sostiene i sogni coraggiosi del professor Zamboni, la sperimentazione Brave Dreams. Dal 1 al 15 febbraio puoi donare 1 euro attraverso un sms al numero 45597, stesso numero anche per rete fissa dove contribuirai con 2 euro al 45597. Sostieni anche tu i sogni coraggiosi di tutti i malati di CCSV e sclerosi multipla.